Quando ho ricevuto la mail di venire qui per parlare di cosa mi ha convinto a fare quello che faccio, l'attore, attraverso i libri, film spettacoli che ho visto, quindi consiglio di pensare, ho pensato che questa è una gran responsabilità, ho pensato subito perché cosa posso mai consigliare io? Allora ho ricostruito un po' la mia vita in capitoli, l'ho diviso in capitoli, scusate, e ho individuato forse alcuni film che sono stati fondamentali per la mia crescita e soprattutto per la mia cultura cinematografica. Ho avuto la fortuna di lavorare in un cine club con Mazzacorati e Monteleone nel 1970 e lì mi sono visto centinaia di film e ne ho scelti alcuni, per cui Umberto D. di Vittorio De Sica, scritto con Zapatini, poi Germania Anno Zero di Rossellini, poi ho scelto Harold the Mood di Hal Ashby, poi ho scelto di Karl Reitz, Morgan, Mato Dallegare, poi cos'è? Un attore che per me è stato fondamentale per la mia formazione, che è stato Cesco Baseggio, con il Teatro Godoniano, questo gruppo, e poi ancora come libri, sono partito da un libro che avevo studiato per l'università quando avevo scritto Psicologia, che è L'interpretazione dei sogni di Freud, e poi un paio di libri, uno è il sillabale di Parisi, e poi due racconti di Mario Rigonisterna, Sentieri sotto la neve, il primo si chiama Che magro che sei fratello, il secondo Polenta e formaio, Zebon, e mi pare che sia tutto, ciao.